Quelli che non capiscono un cazzo che ci mettono in mezzo alla strada, non capite niente. Sono stata in mezzo alla strada, porco dio. Una parabola. Sono sempre due gruppi, amore? Sì. Adesso non so se hai visto che c'era il SUV della Shimano, quelle sono bici che puoi dare a chiunque, cioè nel senso che se uno rimane a terra, non c'è la miraglia vicino, c'è quella, ti dà lo stesso una bici generica, così può andare avanti. Questa va pianissimo, non si sa il perché. Adesso abbiamo l'elicottero sopra, guarda, amore, è lì. Ce l'abbiamo sopra lì. Inquadrami, ciao, ho salutato, non mi cagano. E qui non mi inquadrano, è lì, guarda quanto è alto, quel cazzo che dici che è basso, guarda dov'è. Pensavo che questo è basso, il rumore è prima. Non mi inquadrano, che cazzo, guardatemi, sono qui, io amo la Rai. Eccoli lì che arrivano, zia, guarda, arrivano, arrivano. Eccoli lì, vanno. Eccolo lì l'elicottero della Rai, grande, ci siamo, fuggitivi. Eccoli qua, mica se tirano. Grande. Lì lì vedi ancora che sono la rotonda probabilmente, stanno arrivando qua. Ecco tutto il gruppone adesso. Ciao Rai, inquadrami, ciao, inquadratemi, cagatemi, ciao, cagatemi. Ciao Rai, inquadrami, ciao. Wow. Wow. Basta. Ciao Rai, inquadrami. Non mi hanno inquadratto. qui adesso dove sono adesso ciao a tutti è stato bello non vi sembra il caso la Rai non mi ha inquadrato sono molto deluso te macchine non c'è nessuno in coda non c'è nessuno no addio maggiore non c'è nessuno in caina non c'è nessuno di tutto non c'è nessuno in cavia